Sono state definite critiche le condizioni della giovane dodicenne che, mentre si trovava in compagnia di alcune amiche nella via Puzzefalcetta d'Alcamo, è stata travolta da un'auto. Secondo quanto riportato dalla Polizia Municipale, il conducente dell'Opel Corsa sarebbe stato abbagliato dal sole e non avrebbe visto la giovane. Sul posto è subito arrivata l'ambulanza del 118 che ha condotto la dodicenne all'elisoccorso per poi essere trasportata d'urgenza all'ospedale civico di Palermo. Grazie per la visione!